Sono 520.263 gli studenti impegnati nell'esame di Stato in tutta Italia. Alle ore 8.30 di questa mattina il plico telematico del Ministero è stato aperto. La prima traccia ad uscire è come tutti gli anni quella dell'analisi del testo. Tra gli autori scelti dal MIUR per la prima prova di italiano della maturità, che quest'anno prevede in tutto sette tracce, c'è Risvegli di Giuseppe Ungaretti, confluita nel 1942 nella raccolta L'Allegria, un autore che i maturandi non vedevano comparire nel tema di italiano dal 2011. La seconda traccia proposta invece per la tipologia A, che da quest'anno prevede la scelta tra due brani, uno di prosa e uno di poesia, è Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, che racconta la storia di alcuni omicidi commessi dalla mafia e dalla lotta del comandante dei carabinieri Bellodi. Per la tipologia B, invece, Corrado Stajano, con la cultura italiana del Novecento, in cui l'autore commenta le frasi di alcuni protagonisti del XX secolo e infine brani di Steven Sloman, Philip Fernbach, tratti dall'illusione della conoscenza. Tipologia C, che riguarda le due tracce di attualità, è stato inserito un testo del prefetto Luigi Viana in occasione della celebrazione della morte del generale Carlo Alberto Dallachiesa. L'altro invita a interrogarsi invece sul ruolo dello sport nella storia e nella società, partendo da un articolo del giornalista Cristiano Gatti, che racconta le gesta del ciclista Gino Bartali. Tra le novità di quest'anno, i maturandi dovranno sostenere due prove scritte invece di tre, oltre all'orale, addio alla quizzone e alla tesina per il colloquio. Nella seconda prova ci saranno doppie materie per tutti gli indirizzi di studio.